Granola senza cottura e senza zucchero, con pochissimi ingredienti. Benvenuti nel canale di Tavola Serena, prepariamo insieme questa granola fantastica. Inseriamo all'interno di una ciotola cioccolato fondente e olio di cocco, che faccio sciogliere all'interno del microonde per circa un minuto. Mescolo poi per bene, per farli sciogliere completamente, e metto da parte. All'interno del mixer inserisco nocciole e mandorle, ma in realtà va benissimo qualsiasi tipo di frutta secca. E poi io di solito utilizzo questa avena che è già sminuzzata, che trovo da Lidl. Questa volta non ne avevo in casa sufficienza, ma avevo questo tipo di avena, che è col chicco intero. Di solito quella che compro da Lidl non la inserisco nel mixer, ma direttamente nella ciotola. Questa invece ha bisogno di essere frullata un po', quindi la frullo nel mixer. E poi quando ottengo questa consistenza, trasferisco tutto nella ciotola col cioccolato. Aggiungo anche del cocco rapè, ma va a gusti, potete aggiungere quello che volete. E poi 6-7 albicocche disidratate. Stanno benissimo i datteri, le prugne, qualsiasi cosa volete come frutta disidratata. Tagliuzzo per bene e poi miscolo. Questi sono i suoi ingredienti che utilizzo io. Va benissimo anche del farro soffiato, avena soffiata, qualsiasi cosa vogliate inserire, purché il composto sia di questa consistenza. Tutti gli ingredienti devono essere ben amalgamati con il cioccolato. Trasferisco il tutto all'interno. Io utilizzo questa, diciamo, teglia per pizze, che è bassa e larga, ma va benissimo anche un piatto. E poi pigio per bene con il cucchiaio. Devo creare uno strato uniforme. Poi metto a riposare nel frigorifero per almeno due ore. Io in realtà la preparo la sera prima per il mattino e quindi resta in frigor tutta la notte. Al mattino non resta che sbricciolarla in questo modo e la nostra granola è pronta. Basta trasferirla all'interno di un contenitore o di un vasetto e conservarla in frigorifero per massimo una settimana. È buonissima. Io la consumo in questo modo. Utilizzo dello yogurt al naturale di soia, della frutta fresca e poi la granola. È buonissima. Sta benissimo anche con il gelato. È davvero una granola super comoda che si prepara in poco tempo. Spero che questa ricetta vi sia stata utile. Se è così lasciatemi un pollicino in su. Ricordate di iscrivervi al canale per non perdere tutte le future ricette. E qui vi lascio un altro video con colazioni senza zucchero che potrebbe interessarvi. Noi ci vediamo nel prossimo. Ciao!